Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in questa tenuta così gotica oggi perché andiamo a parlare di come ottenere il nero utilizzando le erbe tintorie. Diversamente rispetto a quanto si possa pensare io non utilizzo l'indigo da tantissimi anni. Ogni volta che lo dico lascia sconvolti molti di voi. Io ho utilizzato l'indigo nella mia vita circa tre anni fa l'ultima volta e l'ho utilizzato credo un 3-4 volte per poi abbandonarlo. Allora io innanzitutto ho iniziato utilizzando la usonia fredda con picramato. Avevo ottenuto un colore molto bello perché come voi sapete ottenere dei colori rossi utilizzando delle polveri con picramato è molto entusiasmante perché comunque lasciano dei colori molto evidenti e particolarmente ricchi come capacità tintoria. Il problema era che io non mi ci vedevo con questo colore. Infatti poi ho cambiato quasi subito in realtà e ho scelto di continuare a tingere con l'indigo. Questo parliamo di novembre-dicembre 2017. Poi mi sono accorta che comunque non riuscivo ad ottenere il nero corvino che volevo ottenere. Siccome ero reduce da anni di tinte chimiche, da anni di nero blu e quindi ero abituata ad ottenere delle colorazioni nere piuttosto intense. Sapete, il nero blu sintetico è un nero cupo, è un nero notte, è un nero che ha delle sfumature che tendono al bluastro. Quindi io ero abituata a questo effetto poco veritiero. Quindi ero abbastanza triste in realtà di non riuscire ad ottenere un nero che mi soddisfasse. Allora ho detto, vabbè, visto che tanto il nero non lo raggiungo, visto che l'indigo puzza, visto che mi secca i capelli molto di più di quanto invece me li secca la lausonia, lasciamo stare. Tanto continuerò a utilizzare la lausonia per le sue proprietà curative e l'indigo lo lascio stare. Però in realtà un po' mi dispiaceva perché io con il nero in realtà sono sempre stata fedele compagna e non mi andava di tradirlo, però vedevo che mi rendeva semplicemente frustrata e quindi l'ho abbandonato. E in questi anni mi sono semplicemente concentrata sulle stratificazioni che potevo ottenere con la sola lausonia. E ho continuato. E in realtà con la sola lausonia io sono riuscita a raggiungere delle colorazioni particolarmente scure, cosa che non avrei mai pensato invece di raggiungere con la sola lausonia. Io sono passata da questo colore che vedete in sovrimpressione, che è un colore che si nota soltanto alla luce diretta del sole, a questo colore che ho fatto ieri. Infatti io dopo quasi più di tre anni in realtà ho fatto l'indigo ieri. E in realtà non mi ricordavo tutte quelle dinamiche che sono legate all'indigo, ovvero l'eccessivo odore particolarmente pungente, il fatto che la polvere rilascia il suo colore nel giro di pochissimo tempo rispetto invece alla lausonia che può essere lasciata ossidare e anche la secchezza che invece è maggiore rispetto a quella che ti può lasciare l'indigo. Quindi mi sono confrontata con una realtà tintoria alla quale non ero più abituata. Io non mi ricordavo quanto l'indigo potesse essere insidioso nel momento in cui durante l'asciugatura restasse sulle mani. Vediamo se magari vi faccio passare una foto che avevo anche pubblicato nelle stories di Instagram, che è proprio il deposito della polvere che una volta che tu vai a toccare i capelli mentre li stai asciugando praticamente ti resta sul palmo della mano. Allora che cosa è cambiato? Io ho capito in realtà che stavo facendo degli errori, per questo non riuscivo ad ottenere un nero come dicevo io, come lo volevo io, come lo stavo cercando. E quindi con l'esperienza che non avevo all'epoca ho capito in realtà che stavo sbagliando un botto di roba. Ora questo video è in realtà l'inizio di una serie di video in cui vi spiego come ottenere un nero corvino, un nero che vi soddisfi, un nero che si avvicini quanto più possibile al nero che si può ottenere invece con le tinture sintetiche che si possono comprare al supermercato o quelle che invece otteniamo dalle parrucchiere. Questo è il nero che io ho ottenuto tramite la miscela fatta con la usonia, indigo e sidre. Contando che allora in videocamera in realtà i colori sono sempre un po' cupi, ok? Quindi comunque in realtà non è un nero così scuro come potrete magari percepirlo voi, ma è un bel nero. Ora, la prima cosa che io sbagliavo era quella di non fare il risciacquo basico. Allora, innanzitutto perché il mio tipo di capello è un capello poco poroso, quindi già le mie cuticole sono chiuse proprio. Anche l'ingresso del pigmento tintorio proprio dell'indigo faceva già fatica a entrare all'interno del fusto. In secondo luogo l'indigo è una sostanza che predilige sostanze basiche, quindi va preparato col bicarbonato. Quindi io in passato non facevo questo risciacquo prima di innare e non basificavo i fusti, perché quello che ho notato è che, ok, le cuticole vanno aperte perché se hai un capello poco poroso è bene che tu prima le apra, ma basificare il capello lo rende anche più recettivo nei confronti dell'indigo, perché l'indigo lavora bene quando è preparato con il bicarbonato. Infatti, che cosa ho fatto? Innanzitutto due giorni prima di fare l'indigo ho fatto lo shampoo normale con le erbe, il risciacquo basico, e il giorno dopo è nato con la lausonia ossidata 24 ore, lausonia fredda, infatti ho utilizzato lo zarca, e non l'ho preparato con nessun tipo di sostanza acida. L'ho messa ad ossidare e il giorno dopo, semplicemente, ho fatto la prima applicazione. Io non ho capelli bianchi, quindi forse, vabbè, ne ho soltanto un paio, che in realtà si sono coperti tranquillamente. Ho fatto la prima applicazione di lausonia, l'ho tenuta 5 ore e l'ho sciacquata via, senza fare nessun tipo di risciacquo. La lausonia, non avendo all'interno degli elementi acidi e avendo fatto comunque risciacquo basico il giorno prima, diciamo che il capello è rimasto in una sorta di pH non troppo alterato, e questo io ho visto che ha favorito di gran lunga poi l'appiglio dell'indigo. Poi, io il giorno dopo, ho fatto il secondo passaggio con la lausonia ossidata 24 ore, preparata solo con acqua fredda, poi ho preparato l'indigo con il bicarbonato, poi, a parte, ho preparato il sidre semplicemente con acqua. Per il secondo passaggio io ho utilizzato 100 g di lausonia, 100 g di indigo preparato con il bicarbonato e forse 30 o 40 g di sidre. Il sidre ho notato anche che è molto utile quando andiamo ad utilizzare l'indigo perché aiuta tantissimo il colore a fissarsi. È una sorta di colla che fa sì appunto che l'indigo si fissi al fusto. Una cosa che ho riscontrato anche in passato, quando avevo provato a fare degli esperimenti insieme a indigo e sidre, avevo notato questa maggiore presa dell'indigo rispetto invece a quando lo utilizzavo senza sidre. Quindi quello che vi posso dire è utilizzate il sidre insieme all'indigo, ovviamente in percentuali diverse, ovviamente preparando dapprima le polveri in modo separato e poi unendole. Questo è quello che faccio io e in realtà ho visto che effettivamente la presa tintoria è particolarmente buona. Con questi passaggi io ho fatto l'applicazione delle tre polveri miscelate insieme, quindi della lausonia ossidata, dell'indigo preparato col bicarbonato al momento, quindi una volta che la lausonia era pronta, e poi a parte il sidre ho unito tutto e ho fatto un'applicazione di quattro ore. Poi ho risciacquato normalmente con abbondante acqua e ho fatto risciacquoacido utilizzando acqua fredda e aceto di vino bianco. Devo dire che i capelli sono neri, molto più neri del colore che ho ottenuto la prima volta che io ho fatto l'indigo anni e anni fa. L'esperienza aiuta tantissimo. Ovviamente una cosa che all'epoca non avevo erano le migliaia di stratificazioni di lausonia, perché le stratificazioni di lausonia ragazze aiutano. Io non smetterò mai di dirlo, nella mia esperienza personale, ok, va bene la scelta delle polveri, però le stratificazioni di lausonia vi aiutano. Vi aiutano per ottenere riflessi freddi, vi aiutano per far attaccare l'indigo, vi aiutano per ottenere delle colorazioni più cupe e possono anche scurire i capelli. E anche di molto, cioè io avevo dei capelli chiari quando ho iniziato a fare l'indigo e soltanto con le stratificazioni di lausonia, devo dire che ho avuto un oscurimento dei fusti particolarmente evidente, tant'è che appunto moltissime persone mi hanno sempre chiesto ma tu fai l'indigo, ma tu che miscela usi, ma li fai neri. No ragazzi, io non li ho mai fatti neri in questi anni. Cioè, io è da tre anni che non ho mai fatto tinture vegetali o mix con erbe per raggiungere il nero. Io ho sempre solo usato lausonia fredda. Il primo indigo che faccio dopo anni è stato quello che ho fatto ieri praticamente. Chiaramente non ho usato oli, non ho messo gel, non ho messo niente, né prima, né durante, né dopo. Ecco, questa è una cosa molto importante che vi dicevo anche in questo video che vi lascio linkato qui sopra. Chiaramente adesso devo andare ad intensificare questo nero che io ho già ottenuto. Quindi andrò a ripetere, diciamo così, in modo più costante possibile le nate fatte con lausonia e indigo e cercherò di rincorrere una stabilità tintoria. Una volta che ho ottenuto un nero anche piuttosto chiaro perché in realtà visto al sole è un nero carbone quindi con delle sfumature un po' morbide non è un nero particolarmente strong adesso piano piano andrò a lavorare di lausonia e indigo e quindi anche con un po' di sidre per fissare e andrò magari mensilmente, quindi almeno una volta al mese ad ennare in modo proprio costante e ovviamente facendo sempre un risciacquo basico prima preparando tutte le erbe in modo separato per poi unirle insieme l'indigo col bicarbonato e l'acqua fredda anche va benissimo la lausonia ossidata che è un passaggio molto importante che all'epoca non facevo neanche e il sidre quindi ho visto che questi elementi mi hanno aiutato moltissimo ripeto ovviamente a prima botta non ho ottenuto un nero corvino di quello che si può ottenere ovviamente col tempo o si può ottenere magari con delle tinture sintetiche ma il nero che ho ottenuto è veramente un nero molto bello un nero carbone volevo dirvi che quando ho fatto il primo passaggio solo con lausonia ho aggiunto alla lausonia ossidata 24 ore dell'ibisco basificato questo mi ha aiutato a raffreddare ulteriormente la base alla quale poi avrei applicato l'indigo il giorno dopo e devo dire la verità questo mi ha aiutato a fare il secondo passaggio con lausonia e indigo su una base ancora più fredda rispetto a quella che mi avrebbe lasciato la sola lausonia ossidata mi ha molto aiutato quindi magari ecco anche se volete passare al nero sul freddo andante potete anche avvalervi di erbette riflessanti che vi portano sempre sulle tonalità fredde quindi legno di campeggio preparato con allume o col bicarbonato o con le sostanze insieme vi rilascio a questo video se non l'avete ancora visto olibisco basificato oppure anche la robbia ecco quindi io adesso seguirò questa strada chiaramente non farò il secondo passaggio nelle nate avvenire perché io non ho capelli bianchi ne ho uno nascosto qui che è diventato nero è un altro piccolino in questa zona per il resto non ho capelli bianchi quindi vediamo come si comporta la ricrescita poi in caso se vedrò che necessita di un passaggio precedente di lausonia magari lo vado a fare soltanto in radice questo è il primo video appunto in cui vi parlo di questo passaggio che per alcune persone è molto delicato e molto complicato spero che questo video comunque vi abbia fornito delle linee guida anche per sapervi muovere in futuro se volete ottenere dei toni più scuri sempre sul freddo andante ovviamente se ci sono delle perplessità o delle domande potete scrivermi giù un commentino e niente ragazze adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti